Hey viewers! Sono il mio nome Salasanti e noi siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video con play questa volta su The Cat Oh, eh vabbè E' una marina di qui ci stanno bussando la porta sperando che non sia quel testa di cazzo del tizio di dell'episodio prima, come si chiama? Quello che è Hai finito di infionare il pianoforte O il disinfestatore che ci è venuto a ammazzare i gatti una, due, due, non ne ho idea vediamo Oh, salve lei è Ciao, Mitzi Ciao, Mitzi Oh, sei quella che è entrata a casa Cioè, in realtà no, ma è E' me, in realtà una ragazza che si è venuto a farlo e si è venuto tutto Eh Mi comprendo se stai freddo a me. Non mi sorprezzerà se volessi a me chiedere per chiamare un'ambulanza per salvare la tua vita, ma ho avuto altre ragazze, anche per le ragazze. È importante, è importante, è per questo che ho venuto qui la mattina, per parlare con te. C'è un po' di più. Perché voglio parlare con me? Non fa' sentido. Vi ho visto l'ad che hai posito in la paper. Mi sembra che hai una sala per rincare. Mi... ma ancora impronta? È stato un mese fa. Nessuno mai chiamò. Ho scoperto tutto. Ho scoperto tutto. Ho scoperto. Ho scoperto, in realtà. Beh, mi piace essere la vostra sottotitola, ma... Però tu hai la sala e io ho l'argento, non ci funzionerà per noi? Ok! Mi sono molto calda, non faccio molto ruolo, e mi prometo non spendere molto molto in la bambina in la mattina. Non ho capito, non ho capito. Ho reado la notizia del suicidio, sai. Sì, ma ho fatto. Ho capito, che ti piace la tua lontana. Ti stai da persone, ho capito. Non ho capito. Ma non ci sarò mai. Non ci sarò mai, non ci sarò mai. Non ci sarò mai, non ci sarò mai. Non ci sarò mai, non ci sarò mai. Ma cosa pensi? Abbiamo un accordo? Beh, potremmo 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 potremmo. Ma... Great! Posso uscire? Oh, ok. Ok. Um... How did you get in that night? I'm sure I locked the door. Well... Ok, I'll tell you. You won't like it probably, but I'll tell you. I picked a lock. Ha! You did what? Look, I know it sounds like I'm some sort of criminal, but believe me, I'm not. My dad was a master locksmith. He knew everything there was to know about locks. He taught me some of that stuff too. Look, it's got this little box. I always carry it with me. There are a few types of lock picks in it. They're very expensive. Custom made. It's now the only thing that reminds me of him. I see. But you know, it does sound like your father was really a burglar, not a locksmith. It's not important anymore. I guess it isn't. But what gave you an idea that you can pick the lock on my front door and just barge in uninvited? I heard the cats. They were going crazy. It was like if all hell broke loose inside, the noise they made. It was incredible. Like ghosts howling. And for a while, it turned into an almost human cry. Well, anyway, I kept banging on the door, but you were already asleep. In a coma or whatever. So I pulled out a sea rake and knocked the door open. I... You could say I had a hunch. A hunch. A hunch. Great. I had a hunch. That something was very wrong. And I made no mistake. Did I? Hmm. Hmm. You said you were my daughter at the hospital. You're a little liar, aren't you? How can I trust you? How should I know you won't slit my throat when I sleep? Jesus, what's wrong with you? You slit your throat? Are you always so suspicious of people? If I wanted to do such a thing, I would never have bothered saving you, would I? Just think about it for a second. I was trying to avoid all the stupid questions. I didn't know what else to say. That seemed like an easy option at the time. Otherwise, they wouldn't have let me come in the ambulance with you. And I wanted to see if you'd made it. Why do you want this room so much? Let's face it. This flat's falling apart. It's cold. It's dark. It's a bit moldy. This is the old part of town where nothing ever happens. It's far from the city center. And there are only two buses going through here. And that's if you're lucky. And I'm known around here as a fucked up, wicked cat lady. They'd burn me at the stake if they could. They'd put me in a bag and drown me in the river like a litter of kittens. I'm not exactly great company for a young girl like yourself. Who are they? People, just people. I don't give a fuck about people, Ms. Ashworth. But I do like cats. Do you think they'll smell the rats on me? Leave the shower. I'm sure you'll change your mind when you see it. I love to see it. And I'm sure it isn't as bad as you picture it. The window is stuck and it doesn't shock me. I'm sure there's croste in everywhere. It's got a funny smell. I'll burn some jostics to cover it up. I love jostics. Fine. I give up. Follow me. You can see it for yourself if you're so stubborn. Ok. Yeah. Ti piace? здесь... Eh... Deliziosa, vero? Eh... Eh... devo accendere la luce? devo... devo... Accendi... Quindi? Che... Eh... Oh! Ok! 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 Euuh... Scusate. Demente io. Sta parlando della camera da letto. Andiamo cara Ti porto nella tua camera da letto Dove ti ucciderò Ti scuoglierò e ti farò Oh, e qualcuno per guardare anche Per un sottoculture, certo? Ero per un sottoculture Ehm 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 Fai parte di quelle sottoculture emo Vediamo questa Ti dici alcune ragioni personali per stare qui? Sì È una storia lunga però Non voglio davvero portarti con tutto questo Perfetto Ok In questo caso Potremmi daremi la versione corta? Sì, ok Sto cercando qualcuno Non conosco questa persona Ma è un Vieno di un vieno Ho solo parlato con questo ragazzo online Quindi Non so cosa sembra Oh Fantastico Ok Mi piace questa lampa, funziona? C'è C'è C'era Oh, sì Non so cosa sembra Ma so il mio cammino C'è 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 Ho bisogno di parlare con lui per riuscire, sai? Solo parlare? Sei sicuro? Sì, voglio incontrare face-to-face con lui. E' tutto. Non sei in un tipo di problemi, sei tu? Mi sembra veramente come un tipo di... serial killer per te, ma... Sì, ma... cosa si sembra serial killer per la morte, quindi... scarga verso la base, un'epercia... riuscire a scopo... di questo tipo di cose, credo. E' un pirata che ci hai proprio descritto, solo aggiungere un peggio e abbiamo un'altra foto. Sì, non ho capito, non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. Non ho capito ancora. C'è qualcuno che posso contattare? Per referenze? Beh... Non ho realizzato un quarto prima, quindi... non davvero. Ho... ho capito... Ascettiamo con la mamma tutto il mio tempo. Ho... che ora... Lo potremmo da, ha? Ho... Oh, questo wäre un punto perfetto per mezzo. Si... Ho... Lo bilanciamento... che. Ho... Ero... Non è un possiblyo partare della emo subcultura? Sì, no, non mi chiede mai la tua parola, non, non, questo è proprio... come mi vestito. Mi cresciva a ascoltare a Virok in Royal, non quella, come sai... Mi piace essere parte di questa generica bandwagon. Ok, è chiaramente un soggetto sensibilmente per te. Vedi, persone stanno pensare che solo perché qualcuno vestita in blanco, sono fissi, ma fissi. Non possiamo generalizzare così. Esatto! 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 No, tu mi hai chiesto tutte queste domande e non ho mai avuto la possibilità di chiedere come stai sentendo. Cioè, tu hai passato una terribile esperienza. Non hai mai successo. Penso che potrei essere in linea per chiederti questo. Ma sono davvero curiosa per come hai cercato di uccidere te stesso. Cosa ci ha fatto? Cosa ci hai sensato? Cosa ci hai sensato? Longa storia non ti preoccuparti con questo personale. Ha, 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 ha. Sto da te una versione. Sì, ma non posso aiutare la sensazione che hai omitato alcuni importanti fatti. Solo alcuni dettagli. Non. Ok, Mitzi. Andiamo a tornare a la giù. La giù è bella! Ma che ti diceva, Misa Ashworth? Ho! Um. è un segnale che è una serial killer o sto impazzendo del tutto cosa sta succedendo? sei bene? vai fuori! hai bisogno di fuori ora! ma perché? signora Ashwood, cosa è vero? sono Però è strano Perché non mi ha veramente avvertito La prima volta che il dottore era un serial killer Cioè lo ha fatto attraverso Liz Credo È troppo ovvio Che lei sia un serial killer in realtà Quindi immagino sia più un avvertimento Tu non sei sicuro Tu dovresti lasciare Ora Sì, signora Ashworth Mi piacere di rimanere Non mi rimanere adesso Beh, non puoi rimanere Non puoi rimanere Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Non puoi Mi rimanere Mi piacerebbe Mi piacerebbe Prima di venire Io ho i miei bambini Io ho... Io ho... Io... Sì 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 Non mi rendi segno Questa non è un giro per te Che non è un giro per te Cosa Scoppio Cosa Non prego Cosa Tu puoi Puoi Questa Ma Qui Ah, quindi devo comunque sceglierle tutte, ok? Ok, ho provato. Spero che non ci緣isco nel progetto di aff science. Alla passare in senso, ci sono un pochia potenziale e ho contribuisce a fare una cosa sta succedendo. Mi sono un po' confusi qui. E... ... certaines o沒有. Non... 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 ... ... ... ... ...e' come i'm to die. ...I know. Ohhhh... ...I know. ...But how did you know, Miss Ashworth? Are you some sort of a psychic? Do you possess some kind of... ...supernatural mind-treating abilities? ...Or is it just so fucking obvious? Di che cazzo stiamo parlando? Ok Adesso ho iniziato a cazzarmi simpatica Ecco perché ero comparsa La vecchia signor Ok Comunque sono andato a controllare Sono sette i capitoli in totale Oh no 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 What the What's the matter sleepyhead Had a bad dream Don't me to give you a cuddle and a kiss Take the nightmares away No What's the matter Cat got your tongue Well don't you worry my sweetest I know a thing or two about pussycats Oh dio santo queste battute No Sul serio Sul serio stiamo andando a parare lì Maledetto psicopatico di merda Ok 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 You're a dead man You just don't know it yet I'll cut your throat open And watch you bleed to death I'll feed your body to the crows Oh you're gonna regret this pal What's going on in there Where are you Who's this Did you play with this little bitch behind my back No No Cuz if you did I swear to God Me? I'd never do that You know me, honey You're the only girl for me This lady here will Join us for dinner That's all For what? Take the goddamn mask off when you talk to me You know damn well I can't stand it And make sure you put it back in the van So you don't fucking lose it again Ok, ok Oh, perfetto Fantastico No, 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 no Ok Cannibali Yes, yes Mancavano i cannibali in questo gioco Cioè, potrei anche dirgli che non sto facendo niente Ma tecnicamente so che sarebbe inutile Quindi Ma che è un pollo tacchino? Sì, così sexy Il Brad Pitt dei cannibali Vaffanculo Oh, Cristo santo Oh, Cristo santo Non la candeggina negli occhi Non la candeggina negli occhi Non la candeggina Oh, Cristo santo La candeggina negli occhi No one Will do it right If you don't do it yourself Ringrazio ancora Zodiac Per avertela tutto questo gioco Però, caccio Quindi Ah, sono il gatto Oh T-cap Sono T-cap Ok, ok, ok Ok, wow Bene Quindi Termino qui questo video gameplay E nel Prossimo video gameplay Vedremo di fare fuori anche il secondo Serial Killer La seconda coppia di Serial Killer Perché è una coppia Bene Perfetto La coppia di Serial Killer cannibali Wow Fantastico Quindi Termino questo video gameplay Noi ci vediamo al prossimo video gameplay Sempre che ho posto Rax91 Ciao a tutti Oh yeah